Venerdì alle 10 in Piazza Orsini si svolgerà la manifestazione dei genitori di Teramo sulle scuole. Perché avete voluto fare questa manifestazione pubblica? Perché va sottolineata la sicurezza nelle scuole, va richiesta di nuovo a gran voce. Verranno sottolineati anche i passi in avanti che si sono fatti. Diciamo che non sarà solo Teramo perché verranno anche i rappresentanti delle Marche, del Molise, della Liguria, della Campania e del Lazio. Ognuno porterà la propria realtà. Perché il problema della sicurezza delle scuole riguarda tutta Italia? Assolutamente, è un problema nazionale. Noi stiamo puntando su una soluzione che tenga conto delle zone, cioè che parta dalla prima, seconda, terza, quarta, ma non solo per il fatto del terremoto. Nel frattempo però dovrebbe esserci un lavoro condiviso per la sicurezza base. Per cui parliamo di scale, porte, protezione civile che prepari adeguatamente gli studenti. Noi questo stiamo chiedendo. Non è una lotta contro nessuno. Chi ci strumentalizza va contro un muro perché noi denunceremo le cose malfatte, ma sottolineeremo quelle fatte bene. Intanto è di oggi la buona notizia che arriveranno i MUSP. Sì, è stata data la conferma anche mentre stavamo in riunione sopra. Il sindaco ha detto che tenterà di fare il tutto possibile per averli entro 40-45 giorni. Ha dato anche altre soluzioni alternative. Non c'è ancora la certezza di chiusura o apertura di tutte le scuole. Si sta prendendo tempo valutando quali possano essere poi le alternative. Grazie. Grazie.